Buongiorno Madman e buongiorno aspiranti Madman e bentornati al nuovo episodio del CriptoEspresso, il nostro appuntamento settimanale durante il quale andiamo a fare un po' di analisi di mercato, a capire un po' quale sia il polso della situazione, facendo un mix di notizie, di indicatori, sentimenti, aspetti vari e generali, un minimo di analisi tecnica e poi un po' di parte dedicata all'unchain. Prima di cominciare vi ricordo, come ogni volta, che questo è solo uno dei vari servizi, delle varie attività di tipo formativo che facciamo all'interno della community Madman. Quindi, se siete curiosi di approfondire, di conoscere un po' di più, insomma, di capire cosa combiniamo di dentro, link in descrizione sia per l'accesso alla community, potete tranquillamente fare uno dei profili free e curiosare un po' prima di decidere cosa fare, eventualmente come continuare, sia il link di acquisto invece del nostro corso che fa un po' l'ABC per chi vuole avvicinarsi al mondo della Cripto. Vi ricordo anche che se avete voglia di darci una mano a supportare il canale, adottare il canale, ovviamente, descrizione, like, eventualmente i link in descrizione per i vari refer, i vari bonus, conti, eccetera, sono comunque un buon modo per farci capire che ci siete e dire ci stiamo andando nella direzione giusta. Finita la parte solita e introduttiva, che devo fare per forza di cose, cominciamo invece con la ciccia vera e propria e andiamo subito a vedere le notizie che ho selezionato per voi. Premissima notizia, Mastercard espande i suoi servizi di consulenza Cripto con 500 nuove assunzioni. Allora di Mastercard e in realtà di altre grosse realtà abbiamo già parlato. Abbiamo visto come chiunque abbia un po' di lungimiranza si stia muovendo in direzione del mondo Cripto, non con ban di vieti o omelie varie eventuali, ma cercando di, da un lato, di regolamentare, comunque di fissare della regola in modo tale che sia un qualcosa di funzionante, di interrato e soprattutto di, come posso dirvi, coerente e legale da tutti i punti di vista, questa è una cosa assolutamente importante, ma anche cercando di fare leva da un punto di vista imprenditoriale e da un punto di vista strategico su quelle che sono le opportunità offerte a questo tipo di mondo. Mastercard da questo punto di vista è un player estremamente interessante ed è estremamente interessante per le sue dimensioni, prima cosa, per le sue possibili ricadute, questo discorso vi faccio ogni volta che parliamo di player di questo tipo, perché nel momento in cui entrano in gioco soggetti di queste dimensioni, di questa portata, chiaramente quello che avviene è avere in contemporanea un avvicinamento sempre più forte, sempre maggiore verso un'adozione mainstream del mondo Cripto, ma soprattutto perché sono in grado di muovere risorse e fare network, fare rete in modo veramente, veramente, veramente capellare. Nel caso di Mastercard questo vale in modo particolare perché essendo ramificata in tutto quello che è il mondo dei pagamenti ed essendo appunto proprio perché ramificata collegata a realtà e istituzioni di tutti i livelli, ma anche di altissimo profilo, la sua posizione, la sua entrata in gioco sempre più a gamba tesa è veramente un segnale molto, 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 molto promettente per quello che è il futuro del mondo Cripto. Nello specifico la notizia, poi come al solito vi lascio in descrizione insieme alle altre che vediamo, va a spiegare che Mastercard sta espandendo la sua attività di consulenza, quindi si sta consolidando sempre di più come appunto come consulente per tutte quelle realtà commerciali e bancarie che vogliono andare in qualche modo ad avvicinarsi al mondo Cripto. E qui vedete che vabbè c'è tutto il trafiletto in cui dicono abbiamo lavorato con la Fin, con il Fintech, Retail, bla bla bla, insomma fanno un po' di storico e di conseguenza dicono ci sta che ci mettiamo a lavorare anche con un comparto Cripto, ma soprattutto vanno a evidenziare che il loro scopo è quello di dare assistenza in chi vuole adottare le criptovalute, qua si parla di banche o commercianti, ma soprattutto consulenza per chi non solo le vuole adottare, ma le vuole adottare in un piano strategico, quindi qua vengono portati un paio di esempi per chi voglia per esempio appunto andare a creare dei programmi di fideltà basati su Criptovalute o sviluppare strategie per l'interazione di Cripto e NFT. Poi ci sono una serie di ulteriori input, per esempio uno molto interessante secondo me è quello in cui Mastercard si dice interessata e già attiva sul fornire assistenza alle banche centrali per la creazione delle CBDC, che sapete che è un tema, un ampio tema estremamente importante, collaterale. Quindi insomma diciamo che dal punto di vista della posizione anche della posizione formale, ma anche dell'attività che Mastercard sta svolgendo, il suo proporsi come punto di riferimento per chiunque nel mondo della finanza tradizionale voglia avvicinarsi al mondo cripto in modo consapevole, strategico e strutturato, è sicuramente una gran bella notizia. Quindi bravi Mastercard, molto 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 secondo me. Seconda notizia che poi in realtà riprendiamo da parte del metric on chain, perché oggi sono quasi tutte incentrate su questo aspetto, gli investitori si stanno preparando l'aumento dei tassi della Fed previsto per marzo. Ora sulla Fed vi rimando al cripto espresso precedente, dove ne abbiamo parlato in in tutte le salse. Sapete che il tapering e il rialzo degli interessi sono i ehm sostanzialmente le due leve che la Fed ha mosso in maniera abbastanza abbastanza schistoprenica negli ultimi mesi e che adesso stanno ormai sono stati ehm diciamo consolidati come orizzonte, sono stati confermati come orizzonte eh e hanno già preoccupato ampiamente i mercati, tanto che in realtà il prezzo in buona parte ehm scusate il ehm la notizia in buona parte è già stata assorbita, è già stata ehm è già stata inglobata dalla dalla price action e dalla reazione del mercato. Ci ho detto quello che si prospetta per il futuro non è un periodo facilissimo, non è un periodo facilissimo almeno stando quelle che sono le teorie dei montonialisti, non quello che dico io, ehm soprattutto per i mercati tradizionali. Alla fine dell'articolo viene descritto un scenario che dal mio punto di vista è il limite dell'apocalittico, ma in realtà potrebbe non essere così così realistico, dove si parla, dove Tom Lee, managing partner di Funstra, perché onestamente non sono molto onesti, non conosco, ehm facendo una serie di di dichiarazioni su investimenti tradizionali dice che le politiche eh della Fed, ma in generale quello che è il panorama, l'orizzonte economico che si sta configurando eh fa sì che per i prossimi dieci anni sia praticamente garantito eh garantito una perdita di soldi in obbligazioni eh veramente incente, con però un sessantamila miliardi da questa cifra che probabilmente andranno a spostarsi nel mondo cripto proprio perché in grado di offrire dei rendimenti, delle rendite passive o in generale delle possibilità di guadagno e di di diciamo di protezione al tempo stesso al di là della volatilità molto 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 più alte. Qua vedete che lo eh proprio lo 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 sottolinea in modo in modo dichiarato. Ora al di là del fatto che nel momento in cui l'albo garantito nell'ambito del della finanza mi vengono i i capelli dritti e al di là del fatto che sia una delle tante eh opinioni e posizioni che potete trovare a proposito di quelli che stanno i scenari economici futuri eh quello che secondo me è importante è eh prendere questa questa serie di 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 scenari di ipotesi e tenere la mente per carità di Dio ma più che altro andare a vedere quale sia la situazione attuale e la situazione attuale come poi vi faccio vedere nelle mete con cena è quella di un mercato che in effetti si sta un po' ehm si sta un po' preoccupando si sta un po' diciamo mettendo sulla difensiva preparando a quello che potrebbe succedere che è preoccupato e che dice ok a marzo vedremo i l'aumento il primo aumento dei tassi di interesse della Fed eh facciamo che stiamo un attimo cauti e e teniamo un approccio più difensivo e meno speculativo spinto. Questo tipo di ragionamento eh è appunto si è andato a riflettere nel comportamento a livello di di mercato e di arrivati quindi a livello di metri che c'è una cioè è è parese questa cosa poi ve lo faccio vedere in velocità eh ma è sicuramente un indicatore interessante di quello che è il sentimento di mercato in questo momento dove da un lato si ha una percezione sempre più diffusa che il mercato di cripto possa essere un'alternativa al mercato tradizionale anche da un punto di vista di tutela eh ripeto al di là della volatilità al di là del rischio al di là di tutto eh ma molti investitori stanno guardando anche in quest'ottica al mercato cripto andando di fatto a ereditare quello che è uno dei principi dai quali è nato su quale si fonda bitcoin e cioè appunto quello di riserva di valore eh e in generale di investimento libero dalle eh anche se poi in realtà non è tutto così dalle dinamiche della finanza tradizionale e mh e quindi ecco diciamo che è una cosa assolutamente da tenere da tenere sott'occhio eh proprio perché sappiamo che la Fed eh sta eh comunque facendo pesando sui mercati in maniera sempre più importante che queste politiche più aggressive più okish le quali abbiamo già parlato non sono state certo una boccata da rifresca anzi quello che fa ben sperare ehm c'è ben sperare quello che per noi che ci troviamo di cripto fa in qualche modo ben sperare è che probabilmente eh il un contacolpo per quanto generale globale sarà più difficile da assorbire per i mercati direzionali che non probabilmente per il mercato cripto che in qualche modo potrebbe beneficiarne però ripeto qui veramente entriamo nell'ambito della speculazione perché potremmo dire che è un parallelo di quello che è successo con con il primo lockdown e con con il discorso della pandemia dove in realtà il mondo di BTC ha il mondo delle cripto ha avuto un drive un'accelerazione incredibile dopo insomma inizio un po' così eh ma di fatto ripeto stiamo speculando quindi il mio la mia posizione lo sapete quella di guardare quello che succede fare per carità di dio tutte le ipotesi delle previsioni del caso ma poi restare sempre con i piedi ben piantati per stare ultima notizia in chiusura Binance è sotto inchiesta Binance USA scusatemi US è sotto inchiesta parte della secca per relazioni con diverse società di trading ora su questo a me non interessa entrare nel merito perché comunque Binance periodicamente affronta questo tipo di situazioni il mh il CEO di di Binance ogni volta nega eh di avere qualsiasi cattura condotta ma la fede coinvolgimento fa si dice sempre super pronto ad allinearsi e fino ad oggi Binance effettivamente si è comportata in maniera ehm insomma con alti e bassi ma ha sempre cercato di eh sostenere la necessità di essere conforme alle al quadro legale di diversi paesi e delle diverse situazioni però ripeto periodicamente eh vengono fuori notizie un certo tipo in questo caso eh c'è notizie un certo tipo notizie non proprio positive in questo caso la l'indagine che la la secca sta conducendo sarebbe a proposito di una correlazione appunto tra 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 CEO eh di Binance e due società di trading che in qualche modo lui sarebbero collegate e che avrebbero ehm fatto delle operazioni non proprio pulitissime per usare un eufemismo di compravendita per ridurre la volatilità del prezzo. Di nuovo non mi interessa entrare nel merito di questa cosa l'indagine in corso Binance comunque vi ripeto periodicamente si trova di fronte a queste situazioni ve lo dico perché ovviamente visto che molti voi utilizzano Binance è importante saperlo ma soprattutto per ricordarvi quanto in tutta quella che è diciamo la base nell'attività eh di un trader ovvero la gestione del rischio rientrano anche decisioni come il fatto di diversificare eh non solo gli investimenti ma anche i non solo solo gli investimenti per foglio ma anche i tool gli strumenti gli exchange che utilizziamo. Faccio un esempio stupidissimo perché non è questo il caso e prima che succeda Binance aprite cielo ma avere magari tutti i propri fondi in un unico exchange ehm e trovarsi magari quel exchange perché magari ha poca sicurezza perché magari va in conto delle grandi legali viene acchiarato viene bloccato i fondi non si possono più prelevare o non si possono prelevare per un top ecco tutte queste cose tenetele sempre a mente quando considerate la vostra strategia perché anche scegliere una buona diversificazione dei tool è un è a tutti gli effetti una delle strategie di risk management che si devono utilizzare che si devono che è consigliato utilizzare. Dalle notizie passiamo al indicatori sia al fear and greed index e a come sotto gainers and losers e a con tra 60 ehm non abbiamo non ho nulla sapete qua io vado sempre molto veloce a meno che non ci sia qualcosa di importante molto specifico da dirvi ma in questo caso non c'è nulla da aggiungere al crypto espresso precedente siamo sempre più o meno sullo stesso valore 52 invece che 50 che ha il valore della scorsa settimana ma di fatto il mercato è neutrale è in equilibrio così dire sia tranquillo significa che è in una posizione di equilibrio di osservazione che in realtà è perfettamente coerente con quello che vi ho anticipato sul discorso sul secondo articolo con gli investitori che si preparano alla cosiddetta tempesta perfetta e che è soprattutto coerente con quello che vi dirò eh in diciamo in chiusura a proposito dell'oncena. Con tra 60 eh sui sette giorni abbiamo una situazione un po' un po' più un pochino tanto più rossa rispetto a settimana scorsa che invece c'era un uno scenario molto più diciamo bullish in realtà più 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 tendente al verde prato eh ma in realtà come vedete se qua andiamo a vedere percentuali sono percentuali a parte tirano e poche altre abbastanza ehm abbastanza contenuta. C'è sicuramente una maggior sofferenza del mercato ma è anche vero che in generale c'è un un rallentamento e un ehm anche un ritracciamento fisiologico quindi non c'è nulla al momento che insomma che 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 almeno dal mio punto di vista eh risulti anomalo o particolarmente preoccupante. È tutto molto coerente con quello che stanno facendo i prezzi, con quello che stanno facendo i grafici delle diverse monete e in generale con il il contesto generale. Eh su CoinGecko ehm e sui Gainers e Losers. Partiamo dai Losers. Vedete che le percentuali che abbiamo qua sulle 24 ore sono abbastanza contenute. Già sul settimanale abbiamo qualcosa di più di più importante. Vedete che abbiamo anche dei valori sopra sopra il 20 ma diciamo che se andiamo a cercare i nomi un po' più importanti comunque abbiamo quelli che di solito seguiamo abbiamo delle percentuali più contenute anche se comunque insomma abbiamo un bel numero sul settimanale di meno 12, meno 14, meno 11 anche come vedete Dot, Kusama, avevo visto eh Send, ecco qua Send. Quindi insomma eh c'è un stato una correzione abbastanza abbastanza interessante. Io non direi particolarmente preoccupante per il momento. Eh mentre sui Gainers del settimanale vedete che abbiamo percentuali molto più basse. Eh sul sul giornaliero invece sul 24 ore comunque abbiamo una prevalenza di Losers ma vedete con dei numeri molto molto contenuti. Il massimo abbiamo meno 7 per cento. Mentre sui Gainers abbiamo comunque qualche percentuale positiva però sono eh sono vedete quasi molto più basse comunque sono molto meno. Quindi è indubbio che l'ultima settimana soprattutto rispetto al precedente sia stata eh di maggior sofferenza soprattutto per le altcoin. Ma è anche vero ehm che appunto abbiamo assistito dei eh dei rimbalzi, dei fenomeni di ripresa interessanti nei scorsi giorni, scusate, nella scorsa settimana e che quindi avere un po' di eh di respiro e di 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 correzione di ripresa ci ci può stare a tutti gli effetti. Chiaro che come al solito si tratta di tenere sotto osservazione una situazione se questo in tempo più o meno orale se questa cosa se questa configurazione dovesse peggiorare eh o dovesse continuare e peggiorare chiaro che ehm a quel punto i pesi potrebbero cambiare. Ma finché siamo in una situazione in cui passiamo da un un recupero, un rimbalzo, una diciamo dei trend più bullish a delle correzioni, dei momenti di respiro, dei momenti di ricarica anche ehm alternati appunto a a cicli insomma al di là poi delle percentuali non non c'è nulla di strano, non c'è nulla che non sia più esplicemente legato all'andamento del mercato. Coppia che scoppia come sempre dominance, scusatemi market cap e dominance vedete che sulla market cap abbiamo eh per la settimana scorsa toccato e in parte rotto la resistenza di 2 trillion senza però riuscire né a superarla con decisione né ehm diciamo a a ritestarla e a trasformarla in un supporto quindi siamo tornati giù, siamo tornati qua a questo livello che è a 1,84. C'è stato poi di nuovo recupero e di qua però poi un paio di candelotti giornalieri di correzione. Siamo comunque intorno all'1,9 ok? Al 1,9 trillion. Quindi siamo sempre alle soglie dei 2 trillion. Ma sapete che questo è il valore che va sopra per arrivare a un bel po' di respiro di mercato. Eh qui in questo momento stiamo diciamo che la 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 total sta cercando di ehm non mi viene neanche da dirvi che stia lateralizzando perché di fatto sta ehm è ancora abbiamo ancora pochi candelotti sicuramente una fase di 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 breve lateralizzazione ma prima di poter dire che sta che stia creando magari una struttura di lateralizzazione un po' più duratura eh vorrei vedere almeno almeno un'altra settimana. Quello che è sicuramente da osservare è se appunto se il nei prossimi giorni quello che faranno le candele giornaliere sarà in generale il grafico qui stiamo guardando sul giornaliero sarà un continuare questa struttura di lateralizzazione magari andando leggermente a comprimere. Qui vedete che c'è una piccola riduzione dei una progressiva riduzione appena accennata dei body. Quindi potrebbe essere una lateralizzazione con una leggera compressione o se invece eh ci si debba aspettare qualche movimento un po' più violento verso il basso verso l'alto per andare o a eh ritestare cosa che mi auguro i due trillions e magari a romperli o ehm invece per andare ad appoggiarsi sul a ritestare al contrario il supporto del D184 eh e eventualmente a romperlo verso il basso. Diciamo che per come si sta configurando eh potrebbe essere leggermente più probabile un un ritorno verso l'alto anche per il sentimento giornale in mercato e di cautela ma comunque c'è stato un po' di recupero di fiducia ma eh al momento in base a quello che possiamo volutare vedere è una situazione di relativa incertezza. Eh Bitcoin dominance eh qui siamo andati al di sopra di uno dei miei livelli quindi stiamo lavorando il famoso uno dei miei livelli uno dei livelli che sapete che tendenzialmente guardo quello del 42 eh del 42 43 quindi qui si sta configurando una situazione che in un a caso eh è rispecchiata da una maggior sofferenza dell'alto come abbiamo visto. Bitcoin ha recuperato poi ha rifiacciato poi è tornato a salire e adesso si sta assestando sembrerebbe sul livello dei 42. Eh ecco questa è una situazione eh che finché dovesse restare così con la market cap in leggero perché si è risalita potrebbe insomma starci anche andare anche bene ma che se dovesse cominciare a salire verso l'alto diventerebbe eh decisamente più più fastidiosa perché chiaramente a parità di market cap più cresce la dominance in Bitcoin più eh viene cavata e levata fuori eh liquidità dal dalle altre e di conseguenza le altre vanno a soffrire. Il punto è che se guardate la solidà di supporto e resistenze quello che sembra configurarsi è una trend line ehm una trend line bullish quindi se dovesse esserci un ulteriore conferma di questa trend e di questo supporto insieme eh che prima era resistenza potremmo effettivamente assistere ad un'ulteriore crescita. Onestamente non credo perché comunque vedete che qua i body sono sono quasi scomparsi ma quasi solo shadow quindi ehm anche la la diciamo la decisione di questi momenti si sta riducendo però il fatto diciamo sarà molto più tranquillo se tornassimo a lavorare su questo livello dei 41 perché significerebbe entrare in una fase di lateralizzazione in questo range e quindi essere molto 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 più sereno. Analisi tecnica del volo non vi dico nulla ve la faccio vedere solo di passaggio per competenza d'opera perché qui avete fatto un ehm cioè chi è in community ha fatto un bel market update un paio di giorni fa con me che ci si è andato molto in modo molto approfondito e di conseguenza a parte segnalarvi che eh hanno di nuovo una una un allineamento tra stocastic RSI e eh sì RSI classico eh non non mi sento di dirvi molto altro e per mando appunto a quella live lì e per chi invece ci segue solo su YouTube vi ricordo che la parte di analisi tecnica e di market update è materia di eh quindi io di solito la faccio diciamo molto al volo di crypto espresso e magari accenno qualcosa di 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 rilevante se c'è se no vado vado molto veloce e piuttosto e piuttosto passo alla parte di metric on chain così che diamo anche dei tempi giusti eh facendovi vedere al volo eh al volo davvero perché tre di queste sono tre metric che descrivono la stessa cosa da tre punti diversi ehm un po' di di informazioni su quale sia a livello on chain la situazione a quale sembra essere a livello di on chain la situazione di mercato. Ora la come sempre faccio prima long story short e poi entriamo nelle metric. Long story short quello che sembra emergere dall'on chain è una situazione nella quale il mercato spot è cauto è abbastanza tranquillo ma resta comunque tendenzialmente confidente nel senso che non si è non si è assistito ad una eh ad un eh tentativo di difendersi eh dai da questa famosa tempesta perfetta la quale vi parlavo in generale della politica della fed chiudendo posizioni quindi cercando di consolidare il profitto e di chiudere. Dal punto di vista spot a quello a cui si è assistito è un mercato tendenzialmente in equilibrio tendenzialmente quello a cui scusate scusate stiamo assistendo è un mercato tendenzialmente in equilibrio tendenzialmente eh attento ma sembrerebbe tranquillo e caressa abbastanza confidente in una strategia di fatto di accumulo o comunque di mantenimento nella propria posizione. Quello che invece è stato ehm sembra essere molto più dinamico molto più attivo è il mercato degli arrivati ehm che ha fatto lo vedete qua ma adesso ve lo faccio vedere anche con le altre due metri che che invece sembra essersi mosso in una direzione molto più difensiva. Questo come? Da un lato con e scusatemi per me di dirvi come più difensiva ehm e quindi più attenta a mettere su delle strategie ehm diciamo preventive nei confronti di quelli che potrebbe essere eventuali scivoloni del mercato eh con il rialzo degli interessi di marzo o quella situazione appunto con la risposta generale ai mercati tradizionali alla politica della fede. Questo che cosa ci dice a livello di macroscala? Ci dice che probabilmente il mercato crypto sta diventando sempre più maturo perché il mercato spot che è il mercato diciamo un po' più tranquillino per così dire a livello di volatilità eh in realtà sta reagendo in modo più duro anche solo rispetto al drawdown che abbiamo visto a maggio nel periodo maggio luglio del duemila ventuno ehm questo banalmente cosa significa? Che in un mercato nel quale abbiamo spot e derivati e eh c'è una situazione di potenziale crisi un mercato solido tende ad avere la parte più eh appunto un mercato studente immaturo tende ad avere la parte un po' più solida in questo caso il mercato spot ehm più più resiliente più calma più eh per così dire passatamente più riflessiva e invece il mercato speculativo quello il mercato dei derivati è molto più speculativo quindi molto più reattivo e molto più attento ad aggiustare la propria strategia anche in maniera magari più azzardata appunto più speculativa eh in base ai possibili scenari in un mercato meno maturo invece è proprio il mercato spot in un mercato quando dico mercato più o meno maturo intendo il mercato cripto ovviamente in un mercato cripto meno maturo invece eh è il mercato spot a reagire con opzioni con azioni di acquisto e vendita e quindi a prendere delle posizioni difensive in un caso come questo magari chiudendo le posizioni vendendo in perdita consolidando il prodotto il fatto o consolidando la perdita ma comunque uscendo dal circuito il fatto che questo non stia succedendo che anzi il mercato spot si stia mantenendo più stabile e che invece quello che sta cercando di fare da ehm ehm come dire da diaframma di aggiustamento sia il mercato dei derivati quindi un mercato che per sua stessa natura è più speculativo è un buon segnale in termini di maturità generale del mercato cripto questo è stato un concetto molto eh molto figo che magari poi gestiamo anche affrontiamo anche offline con all'interno della community però ci tenevo a dirvelo perché è un bel segnale è un segnale di un mercato che sta crescendo e sta crescendo in modo sano all'idea di tutte le volatilità e tutti gli scivoloni che può fare tornando alle metri che quello che vediamo a livello di mercato dei derivati sono una tendenza a essere più caldo e quindi da un lato a ridurre le leve lo vedete qua quindi a chiudere non perché ci siano stati dei fenomeni di eh dell'averaging di eh di liquidazione cascata ma proprio a chiudere posizioni in modo eh in modo volontario e questa metrica ci dice vedete stiamo andando verso un minor rischio di dell'averaging proprio perché le eh posizioni stanno diventando più caute e in generale una ehm diciamo un aumento della nomine della dominance nell'ambito delle opzioni delle put piuttosto che delle calls ora qui non entro nel merito perché è una cosa che abbiamo che dovremmo aver no che viene affrontato nel corso eh ma put e calls sono ehm due diverse ehm possibilità di lavorare con le opzioni che come sapete se non sapete l'udito del volo eh danno eh sostanzialmente un diritto di acquisto sul prezzo futuro e che rispettivamente vanno a lavorare sulla possibilità di vendere o di acquistare eh nel momento in cui c'è un aumento eh delle delle put option tendenzialmente si va si dice che si vada verso un mercato più ehm più di protezione più eh verso le posizioni più difensive e il fatto che la dominance del put lo vedete lo vedete anche qua eh sia molto più alta rispetto a quella della calls sarebbe coerente con un mercato dei derivati quindi con un mercato legato alle posizioni più speculative eh attento pronto a reagire appunto in modo difensivo nei confronti di eventuali eh situazioni più drammatiche nel mercato. Questo sono solo tre delle metri che avrei potuto portarvi a proposito del mercato di derivati ma sono tutte abbastanza coerenti quindi riduzione delle posizioni speculative, maggior cautela eh minor desiderio di esporsi a potenziali rischi e in generale una maggior dominance delle 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 options cioè dei delle put scusate nell'ambito delle opzioni eh per appunto tutelarsi a maggior ragione in caso di ehm di movimenti di mercato non proprio non proprio belli. Dall'altra parte però e qui ve lo faccio vedere con inflow e outflow dell'exchange e con ehm e con il comportamento dei long term holders ma in realtà da questo punto di vista anche le metri che per esempio sul mine sulle sui miners le metri che sul comportamento delle short term holders che abbiamo visto la settimana scorsa in parte e in generale diciamo tutte le metri che sono abbastanza coerenti ma vi faccio vedere con queste due metri che e vi cito le altre quello che sembra ehm che sembra emergere è un approccio che continua in direzione dell'accumulo dell'accumulo quindi eh le outflow in questo da questo punto di vista sono veramente esemplificativi ma anche il comportamento dei long term holders e quindi dove di fatto i grossi eh la maggior parte del player del mercato eh del mercato spot eh in realtà sta continuando a restare confident nel positivo nei confronti della stabilità del mercato che non significa che non si aspettino eh delle correzioni che non significa che non si aspettino magari dei momenti di maggior difficoltà e durezza ma in generale non stanno vendendo le proprie posizioni come vi dicevo non stanno chiudendo le proprie posizioni eh per mettersi a riparo ma stanno mantenendole anzi continuando ad accumulare magari con ritmi molto più bassi magari con una situazione di mantenimento invece di 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 ulteriore accumulazione eh ma comunque un approccio che sembra molto più coerente con un mercato con degli investitori e dei traders eh che sono consapevoli di quello che lo scenario economico potrebbe potrebbe comportare ma che comunque tengono ferme per il momento tengono ferme in qualche posizione o continuano a mantenere una strategia che non è quella di chi dice oh mio Dio sta crollando tutto vendo anche se sono in perdita vendo nel panico quindi un mercato di nuovo più maturo più consapevole ehm e più stabile quindi probabilmente anche molto più in grado di assorbire in modo non non totalmente drammatico ehm eventuali tempeste perfette come quella della quale parlavamo prima questo come al solito significa che non succederà eh che il prezzo non crollerà che andrà tutto tornerà tutto bullice no assolutamente ricordatevi che nessuno ha la sfida di cristallo nessuno sa in realtà cosa succederà possiamo solo fare delle interpretazioni in tempo più o meno reale quindi continuare ad osservare quello che succede a livello di fondamentali di on-chain di analisi tecnica di news e via dicendo e in base a quello strutturare a diciamo ehm aggiustare eventualmente la nostra strategia ma quello che possiamo dire in base a quello che stiamo osservando ad oggi è che il mercato spot si sta comportando in maniera molto più resiliente e molto più matura eh di quanto non ci sarebbe potuti aspettare e soprattutto di quanto non sia successo solo neanche un anno fa solo pochi mesi fa durante il il drawdown la correzione di insomma molto importante alla quale abbiamo assistito nel maggio luglio 2021 ecco io ho finito ragazzi non aggiungere altro eh così stiamo proprio belli giusti dentro la mezz'ora eh noi ci vediamo in community con chi fa parte dei madman o con chi di voi avrà voglia di di venire a corrisare un po' e con tutti gli altri ci vediamo la prossima settimana buona giornata buone cripto e mi raccomando fate sempre la vostra view di l'eccesso giornata buone